C'hanno solo 29 bar Ma le mie dove stanno? C'erano 259 Attacchiamo! No ma ha capito che cazzo stanno f***ate Io c'ho, io c'ho, aspetta un attimo 10 Navi Ok Non posso manco inviarne Perché poi? Se non ce l'hai di livello alto io ce l'ho Io ce l'ho di livello 2 massimo Quindi mi servirebbe una mano C'ho le battleship e le carrier di livello alto No io c'ho tutto di livello 2 Ecco vado a far capire quindi Eh, una mano forse Ah io pure, tranne però le battleship Avanziamo! E che cazzo? Niente Tià, non esco a sfondare Guarda, guarda Che poi questo Atlantic Wong Mi aumenta la costruzione dei forti dei forti su costa del 20% Guarda è molto utile Io credo che Con questo vinceremo la guerra Perché voglio dire Abbiamo una Puoi fare tutto livello 1000 Difesa No, non ci tattica al bombe e ti ripengo a te Ok, ora ho l'accesso No Oh No Finalmente il mio esercito può toccare Munghiera Munghiera mi vuole inviare dei volontari Ma certamente Come posso dire di no? Sarei impazzito Piaaa Che fame Tutti che muoiono qua A Bologna fa belle truppe Ok, ho fatto un sacco A denne tu Sì, è stato ferito Rommel Ma non muore Non muore in Africa, muore in Bologna, puoi vedere? Questa qua, guarda Comunque ho preso anche Krakow e Varsavia Quindi Tra l'altro cade Se prendiamo Ma cazzo Ma come cazzo si chiama Ce la facciamo Sacchiamo stabilità Sacchiamo anche questo Voi ti sacchiamo? No, però Lo diciamo lo stesso E quindi La Pongonia cade Ah, vuoi prendere in Griglanda? Fai bene No, non è il mio il piano E di chi è il piano? No, non è il mio il piano Ma di chi è il piano, amore? No, non è il piano E di una Grecia Una Grecia Una Grecia Che ha stupito molte verdi Mi ha spettato una Grecia Vai Pongonia Manca poco Perchè non schiatti? Io non ho vela Attenzione E' il Roman Potrebbe arrivare Attenzione Una grande Una grande gara E no I poacchi I poacchi Arrivano ben primi Vai Prepargo un'invasione navale Per la Ok La Pongonia è caduta Per forza È caduta Ormai Non può più sopravvivere Ormai È caduta Ancora E dai Manca poco Ok è caduta Ancora no Sì Ancora 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 c'è un'invasione da nascolto e scendiamo non è mai una pensata è che i miei piani sono quasi brodi sennò dovrei farli ripreparare completamente se no mi metto a ripetere ripetere che faccio tutto più veloce cazzo sono partite perché sono partite perché sono partite tu non partite se no ma che cazzo di divisioni ci hanno troppe oh mio dio ma stiamo vedendo bene fermate l'attacco fermate l'attacco ritirata ritirata fermiamo l'attacco bomba no venga veramente non è troppo bomba sei da solo però te lo dico tante che sono vabbè su qui non c'è ombra di cazzo bisogna costruire il porto mia cara finlandia perché non ti prendi un po' dei miei fucini ti do ti do 18.000 k98 e certo che accetti potresti mai aiutare un'offerta del genere scusami ma mi ha flottato cazzo ma la flotta mia è sparita scusami no mica me l'hanno distrutta completamente no in 3 unità però si mi hanno distrutto la flotta mi hanno distrutto la flotta oh sto per attaccare posso ce la faccio posso ce la faccio posso super pendiport mi hanno distrutto la flotta eh perché a me no c'avevo 50 navi con due carrier completamente esplose no però aspetta ha distrutto duemila aerei prima di morire eh ugualmente eh ho capito 50 navi con due carrier dai diciamo che va bene beh cazzo però eh non lo so è un duro conto oh ce la sto per fare posto ma per niente del mondo ce la sto per fare prima cosa? che cazzo è successo? eh che cazzo eh si vede che c'è poco war support no 100% disabilità? 43 boh qui non ce l'ho neanche uno restore order in the military hold a patriotic speech before the amutinamenti trova a fare qualche war politic goal faccio un faccio un discorso patriottico vediamo un po' che succede vediamo un po' un bel discorso patrottico facciamo 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 e non è mui certo che mui sto cazzo per 90 giorni i miei divisioni avranno meno 15% recovery rate meno 25% di division attack meno 10% di division organization più 15% training time eh mi ritiro da una da una guerra però bombardo comunque non serve a niente ma manco i gun se posso bombardare eh vabbè quasi però forse non trovi ups adesso salva in un momento qualsiasi perché potrebbe darsi che e ad un certo punto potrei crashare wait io non ci provo manco ad attaccare proprio io ormai questo proviamo per una vittoria eh eh non ce la faremo male ma cazzo è impossibile ma perché la grecia poi fa tutti sti piani poi non va a niente no o vuoi attaccare Manta vuoi attaccare la Norvegia vuoi attaccare eh riso nei farole o tutto vuoi attaccare poi non va a niente i danesi sono diventati comunisti Danish eh l'avevo visto Civic Junior ma perché Union of Canada inutile come poche altre cose finlandia dovresti fare delle divisioni tu hai dato 18.000 a K98 non per così ho capito tu vuoi dei carri armati eh dino che vuoi dei carri armati sto io vuoi eh 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 tiè tiè 1500 panzer 2 ma l'Ostria e l'Ungheria che ancora non hanno scelto cosa fare nella loro vita se attaccassimo l'Ostria beh ma entrano negli alleati è sempre questo è sempre così più più po e poi sanguiamo e poi l'Ingheria e dove mi rendi rinanda non mi vuoi prendere più eh non erano i miei i prossimi cazzo se vè mi scordo sempre anti 72 strategic bomber giusto per mettermi non possiamo bomber da niente cioè non potrei perché si come vuoi sii opps un voto è un pe... no non cade ce l'ho fatta ce l'ho fatta ho fatto il discorso ha funzionato? si